La differenza di una cava in galleria da una cava esterna qual è? Che in esterno se uno trova il problema, un pericolo, lo può anche abbattere. In galleria prima si fanno delle carote per saggiare cosa c'è all'interno della montagna e se si ha il problema cercarlo o di conviverlo insieme mettendolo in sicurezza, se no si fanno dei saggi iniziali. Si prova a vedere se il monte forza, cioè se ha le sue spinte di scarico in quel punto e come si verifica? Si verifica che quando uno taglia al monte si ha una scoppiatura, una crepatura, lì è un punto dove il monte forza e allora si valuta e si decide con i tecnici, quando ha un suo scarico massimo è un punto che bisogna fermarlo il cantiere, perciò a fine futura in quel punto è cercare un altro punto dove poter andare a lavorare. Grazie.